Musica Le due vittorie intercorse tra la 18esima e la 19esima giornata dell'Agnonese, prima Montegiorgio, poi a domicilio con la Re Canattese, obbligano gli uomini di Marinelli a pensare in grande. Dall'altra parte un cattolico a San Marino che in questo avvio di 2020 ha ottenuto nelle prime due gare una sconfitta interna con i Matelica e un pareggio con il Sant'Elpidio, ma i giallorossi cattolichini devono rinunciare al loro uomo di maggiore qualità, spesso decisivo, esattamente al figlio d'arte Rizzitelli, in infermeria già da qualche settimana, out fino ad aprile. I Mollisani viaggiano sulle ali dell'entusiasmo contando sul loro miglior finalizzatore con salito a quota 800 in stagione, andando tra l'altro a Bersaglio nelle prime due gare di questo 2020. E i Mollisani partono non a caso forte, passando già al decimo quando l'azione dei gol parte dalla mediana. Tocco di Peiccia a favore di Mini Cucci che addomestica la sfera e tempo di girarsi e infilare nell'angolo alla propria sinistra l'estremo di casa. Festeggia la marcatura numero 10 ospite con la propria panchina. La risposta è cattolica, San Marino non si fa attendere, dalla bandierina arriva il colpo di testa di Ferraro con l'ex lanciano in Lecce che colpisce il palo alla destra di Meiri. Ancora Ferraro protagonista con suo traversone in direzione Merlonghi sventato davanti al linea di porta dalla difesa molisana. Se di numeri 10 si parla, Mini Cucci sul vessante opposto chiama la deviazione in corner Piai con un assolo personale che fa gridare a gol. Dal conseguente corner di Arra di testa sfiora la marcatura deposita nel palone sopra la traversa. In chiusura di tempo Romagnoli vicino al pareggio, da punizione Merlonghi pesca Guarino i cui colpi di testa si spegne a lato. Squadra riposta sullo 0-1. Nella ripresa cattolica San Marino parte forte, Ocoli è lanciato a rete e si divore in questa maniera il possibile pareggio. La replica degli anni onese è affidata alla punizione di Nicolau che si perde a lato. Poco dopo la grande chance del raddoppio per i mollisani capita sul piede di Mini Cucci che centra il palo. Appiai battuto sulla ribattuta, tiro a colpo sicuro di Frabotta con Ferraro che sava miracolosamente sulla linea di porta. Ancora Mini Cucci lanciato in profondità non riesce ad incidere, disturbato anche dall'intervento in copertura di Croci. L'Agnonese protesta poco dopo quando il traversore di Cona in direzione Peice viene toccato con un braccio in caduta da Barellini. L'arbitro lascia in questo caso a proseguire. Il cattolica San Marino esce fuori dalla propria area e su punizione con Merlonghi reca più di un brivido agli ospiti. I padroni di casa insistono e pervengono a pareggio grazie a questo cross di Croci gettato in mezzo alla mischia laddove spunta la testa di Gasperoni che timbra il cartellino. 1-1 e ristabilita la parità. L'Agnonese continua a subire ma il colpo di testa di Merlonghi è una comoda chiamata per Meiri come del resto il tiro di Cona e dall'altra parte al novantesimo che Piai blocca senza problemi. L'Agnonese colpisce, spreca e subisce la beffa da un cattolica che nella ripresa passato un brutto quarto d'ora prende campo e trova un pareggio che muove seppure a piccoli passi la propria classifica. Grazie.